Riconosciuto il diritto alla protezione internazionale A un cittadino ucraino per i rischi che correrebbe nel caso di rientro nel paese di origine a causa della precedente attività politica dell'interessato Dali rischi risultano anche dai rapporti delle organizzazioni per i diritti umani quali Amnstein International nonché dalla coerenza delle risposte alla intervista rilasciata alla Commissione da parte del cittadino ucraino In caso di rientro vi è la concreta possibilità di persecuzione per fini politici a carico del richiedente Grazie